ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi un gioco davvero molto particolare soprattutto perché su steam lo trovate a soltanto 3 99 il suo nome è nominal è un gioco che mi ricorda molto teen ken gioco che avevo fatto una vita fa qui dovremo diciamo fronteggiare dei problemi in ambito spaziale perché ci troveremo adesso vi faccio vedere la modalità simulator dove abbiamo tutto il pannello ci viene mostrato quello che andremo a fare in sintesi attiveremo i re le attiveremo i vari sistemi e diciamo dovemo risolvere un problema e giusto per chiarirvi in che cosa consiste questo titolo noi una volta che inizieremo la modalità normale potremmo scegliere un tipo di problema oppure farlo a random ed è quello che io farò c'è un manuale cliccando qua via per la pagina è un pdf potete scaricarlo stamparlo è di 107 pagine è veramente molto complesso però una volta capita un pochino la dinamica lo potete padroneggiare l'ideale giocarci con un amico che magari vi segue con il manuale a fianco piuttosto che dall'altra parte con un disco ad uno skype un team speak insomma in modo da farvi dare una mano e come farò io a fronteggiare queste questi pericoli spaziali beh ho chiamato un assistente un assistente che mi aiuterà a tornare sulla terra vivo il e lui è ibu 90 ciao a tutti abbiamo già fatto qualche quest quest se così si possono chiamare e ce l'abbiamo fatta quindi insomma lo cominciamo abbiamo già fatto un po di pratica come ho detto quindi lo cominciamo il gioco inizia così praticamente abbiamo tutto il sistema funzionante tutto acceso e marciamo verso la terra dove si presume entreremo in orbita e poi rientreremo potrebbe succedere di tutto l'ultima volta si è spento tutto e quindi abbiamo dovuto risolvere fortuna che ibu sa che cosa c'è che dove andare a vedere sul manuale ecco è uscito il caution c'è un allarme e l'allarme al motore angio è abbastanza rapido giusto si 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 è abbastanza rapido direi un mezzo secondo oppure ogni secondo sembrerebbe che vada con ok vabbè allora non c'è niente sullo schermo quindi è un allarme solo del caution qui e abbiamo 9 minuti 20 c'è da fare un emergency cut off per motore ok quindi vado con cut off perché ci sono tutte le varie sezioni in base alla gravità dell'errore ok allora schiaccia il fuel emergency cut off per 5 secondi fuel e l'emergency cut off questo sotto sotto quello di engine 5 secondi fuel e poi le due valvole off off rcs off engine ok ok check and set engine purz rcs purz off che sono già su off si 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 sono già su off poi c'è tutta la lista la checklist ma noi manteniamo la calma il manuale la prima cosa che dice di non panicare ma non infatti tranquillissimo allora anche il cut off dell'engine altro bottone rosso 5 secondi 1 2 3 4 5 ok giù engine ok ok poi engine purz off per 6 secondi quindi 1 2 3 4 5 6 ok adesso le valvole sia della cs che del range on ok e su il motore senza fuel ok poi altre procedure bisogna riamare il motore senza fuel e sempre sempre senza fuel tengo 5 secondi l'arma allora esatto 1 2 3 4 5 ok ok dopo molto male molto male adesso 1 2 3 sì yes yes e così abbiamo completato con un tempo rimanente di 6 minuti e 32 questa è andata piuttosto bene fortuna che ecco ha capito i buco messi legge manuale cosa si va a fare magari ne facciamo un altro e quindi ne facciamo un altro andiamo ancora su normal speriamo non ci esca un errore con lo schermo perché quello non lo sappiamo ancora fare comunque viaggiamo nuovamente ripartiamo lo definirei questo un puzzle game alla fine cioè non ha un che di simulativo nel senso che quello che vedete questa schermata non c'è altro non ci sono scene di ed è un gioco che sembrava morto fino a qualche mese fa poi invece è stato rilasciato infatti era abbassato forse di un paio di euro il prezzo costava forse 6 euro l'inizio e non è male per il prezzo che costa non è male se viene sviluppato perché vedo che c'è anche un qualcosa da programmare lì sì sì sotto questo sì 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 vediamo perché poi si può scegliere il tipo di danno e il tipo di danno può essere di tanti tipi danno al motore può essere di diversi diversi tipologie così come l'alimentazione ok caution o 2 o 2 sta finendo l'ossigeno e anche spia lenta quindi forse un paio di secondi ok si quello che sta dicendo ibu sono i codici del manuale esatto sono le varie pagine del manuale allora tutte e tre gli switch dell'ossigeno off quindi le fan 1 2 3 off giù il relè giù il relè dell'o2 su il relè dell'o2 sul relè dell'o2 accendi solo la ventola a ok si accesa la la spia della ventola a con la gialla si 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 questa ok iphone short identified ok allora spegni tutte e tre le ventole si spengo l'unica che ho acceso si esatto spegnerele si accendi tutte le ventole quelle buone quindi la 2 e la 3 la 3 non sappiamo che è buona qual è che hai acceso prima la 1 la 1 devi lasciarla spenta e accendi l'altra 2 ok ok completato stiamo facendo anche un sacco di achievement mamma mia non voglio adesso spoilerarli troppo possiamo farne un'altra ancora dai è durata veramente un minuto e mezzo questa quindi possiamo partire aspetto che tu sia pronto e vado ok vedete qua si possono scegliere i vari fail che poi ce ne sono diversi tipi penso che il nav sia quello un po più difficile da fare vediamo vediamo cosa succede ripartiamo di nuovo c'è bello che sul manuale c'è tutta la procedura anche per la partenza da spento che non serve a nulla quanto ho visto perché salvo qualche procedura che lo richieda è veramente improbabile usarlo perché non si parte da terra come magari si vede su altri giochi tipo rientri o roba del genere allora aspettiamo che succeda l'irreparabile uh ci stiamo muovendo è partito l'RCS bello questo bello imprevisto perché si sta muovendo su se stessa l'astronave ma quanto velocemente si attende la spia eh veloce 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 eh... RCS... dove sono? ok ok io spegnerei allora eh... RCS valve off valve o... valve valve, via bisogna disarmare gli RCS quindi giù tutti gli switch degli RCS l'arma lo tolgo e tolgo tutti gli RCS ok ok giù il relè giù il relè su il relè su il relè allora praticamente eh... devi accendere una volta gli switch degli RCS fino a quando si accende la spia zalla metto il primo allora attivo arm dove sarà RCS quale deve accendersi di dispia? questa qua zalla è sopra nel pannello questa non si è accesa allora accendo le altre una volta quindi spegni arm e accendi arm ah arm accendo up e si è accesa è questa è questa? quindi una cosa individuata sì perché se è forward non va neanche quella esatto ah ok allora spegni tutti gli switch spento poi eh... eh... on lo switch quello incasterato quello che non funziona quindi up metto up sì eh... la valvola deve essere su on on sì valvola on spegni eh... l'RCS quello che hai l'unico che hai acceso spengo up sì sì e spegni la valvola adesso dobbiamo fare la procedura di attenzione quindi giù il RCS sì giù il RCS intanto ho fatto un achievement sì e adesso vado a cercare la procedura di attenzione ok bene qua è tutto inquietante allora il relay è on sì sì banalmente è più su tutti gli switch ma anche la valv? anche la valv sì valve arm up forward left uh... bellissimo ci siamo stabilizzati grande grandissimo this is fine e niente questa è stata veramente bella perché è stata molto bella anche da vedere perché comunque venivano veniva il mal di testa dal tanto girava la la navicella la capsula comunque questi sono tre esempi dei delle decine e decine di imprevisti che possono capitare all'interno di nominal questo gioco da 3,99 e io ringrazio allora per la partecipazione ibu 90 niente di che? e niente spero il gioco vi sia piaciuto fatemi sapere qua sotto nei commenti che ne pensate alla prossima ragazzi e ciao 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 ciao